Buonasera e benvenuti ad Ancora Tg. Apriamo anche questa edizione con la vicenda dei 5 giovani spoletini accusati di associazione eversiva. Questa mattina al carcere di Capanne si sono tenuti gli interrogatori condotti dal giudice Claudia Restivo. I ragazzi che ricordiamo avere fra i 20 e i 25 anni avrebbero risposto alle domande degli inquirenti spiegando circostanze e negando ogni addebito. Gli avvocati dei 5, i legali Feliziani, Alianti, Minci, Parente e Truppiano hanno richiesto l'immediata scarcerazione dei loro assistiti. Scarcerazione che probabilmente non avverrà prima di martedì prossimo quando i presunti autori degli incendi ai cantieri di Spoleto e delle minacce al sindaco Brunini e alla governatrice Lorenzetti saranno interrogati dal pubblico ministero Manuela Comodi. Due ore fa la sala Vittori di Palazzo Collicola si è tenuta la conferenza stampa annunciata dall'avvocato Vittorio Truppiano che ha confermato come non vi siano elementi di colpevolezza nei confronti dei suoi assistiti che ricordiamo sono Michele Fabiani e Fabrizio Reali. Se questi sono terroristi, ha detto Truppiano, allora possiamo dire di aver sconfitto il terrorismo. Questa è la dichiarazione dell'avvocato. Cambiamo argomento e passiamo alle vicende della Umbria Oli. I sindacati locali di CGL CISL sono stati infatti convocati lunedì mattina dal comitato tecnico scientifico nominato dalla regione dell'Umbria all'indomani della tragedia di Campello sul Critunno. Saranno i dirigenti Tortoioli e Grandolini a fornire i dati ottenuti dai tecnici della regione dell'Umbria sul sito di Campello. Intanto Mario Bravi della CGL di Perugia se la prende con l'imprenditore Giorgio del Papa definendo inusitato l'attacco portato nei confronti dei periti della procura di Spoleto che indaga sul grave incidente. Successo per il sorriso di Daphne lo spettacolo di Vittorio Franceschi che è stato salutato ieri da un lungo applauso del pubblico a corso al Teatro Nuovo. Sentiamo cosa ha detto l'autore. E come ha trovato questo nostro teatro? Meraviglioso, meraviglioso perché innanzitutto è bellissimo, è stato restaurato recentemente, il restauro è magnifico. Poi abbiamo fatto le prove di voce, c'è un'acustica eccellente e per gli attori recitare in un teatro così è una grande gioia. L'hotel San Carlo Borromeo, struttura degli istituti riuniti di beneficenza gestiti dal dottor Massimo Zuccaccia, riceverà domani mattina a Perugia il premio Equal Jump istituito dalla Camera di Commercio di Terni e Perugia per sottolineare l'impegno e i risultati conseguiti dalle imprese in tema di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Ed ora veniamo allo sport, domani al Palarota e di scena la Maran che affronta il Raiano. Il campionato di promozione di calcio invece vede la Voluntas Spoleto tornare fra le proprie mura contro l'Ortana, mentre Critunno e Castellana scenderanno rispettivamente sul campo del Pantalla e AM98. Domenica la Olio Monini Volley Serie A2 affronta fuori casa il Taviano, mentre siamo così passati alla B2 maschile, la Lloyd Adriatico su quello del Cività Castellana e per stasera è davvero tutto, arrivederci a lunedì prossimo.